3.103 contagi in Campania fa peggio solo la Lombardia e in aumento i casi in provincia di Salerno. Più positivi ad Agropoli, Vallo, Ceraso e Castellabate a soffrire maggiormente è sempre il golfo di Policastro. Cimiteri aperti per il ponte di Ogni Santi, misure anti-Covid per l'accesso in sicurezza. Dopo De Luca il presidente estrianese a scrivere a Conte per tutelare le imprese e i lavoratori. Alla scoperta di Pestum sotterranea in futuro tutti potranno visitare le meraviglie del sottosuolo. Queste sono alcune delle notizie in onda nel telegiornale di oggi. Il virus avanza. È presto per raccogliere, se ce ne saranno, gli effetti positivi del nuovo DPCM. E così la curva del coronavirus alla serata di ieri era nuovamente in ascesa. Più 26.831 casi in sole 24 ore. L'aumento è stato registrato a fronte degli oltre 200.000 tamponi processati, una cifra enorme se si pensa che nel pieno della prima ondata se ne effettuava un numero 10 volte minore. Ma all'aumentare dei tamponi, proporzionalmente aumentano anche i nuovi casi di coronavirus. Stando all'ultimo bollettino della protezione civile del Ministero della Salute, in 24 ore sono stati registrati 1.840 casi in più rispetto alla serata precedente. In crescita pure i ricoveri ospedalieri. Attualmente questi sono 15.964, 1.651 i pazienti in terapia intensiva. 7.339 i nuovi contagi in Lombardia, segue la campagna 3.103 e il Piemonte 2.585. Drammatica la situazione proprio nella regione a vertice di Luca, dove pare che nelle ultime ore, man mano che i dati diventano sempre più seri, le scelte politico-amministrative si ammantano di un clima più di recriminazione che di scelte chiare e decise. Il presidente De Luca scarica le colpe della situazione fuori controllo sul governo. Il sindaco di Napoli ora accusa il governatore, ora gli scienziati. Quest'ulti si dividono sempre più in fazioni e scuole di pensiero. A spuntarla però è quella che vuole misure urgentissime, rigorose e secche. Chiusura immediata delle città, focolaio, in primis quella di Napoli e Milano. La Lombardia e la stessa campagna infatti hanno insieme quasi la metà dei nuovi positivi. Inutile fare una differenza tra sintomatici ed asintomatici, così come continua a distinguere la campagna. Più asintomatici dicono infatti che fortunatamente queste persone stanno bene, non ha bisogno di cure, ma sono ugualmente effettive. Il 90% dei nuovi positivi in campagna è privo di sintomi da coronavirus, ma la serata di ieri si registravano altri 20 morti, sempre a somma di quelli che tra il 24 e il 28 non ce l'hanno fatta. Più asintomatici, ma paradossalmente sale il numero di ricoverati in terapia intensiva, 164, ma l'unità di crisi fa sapere, sempre attraverso le grafiche in dispaccio, che la campagna è dotata di 580 posti attivabili al bisogno, 227. Va decisamente meglio nelle altre regioni del sud Italia e molte altre del centro, anche se in quelle realtà il numero dei tamponi, prima arma necessaria per scovare ed isolare il virus, si mantiene su cifre essenzialmente basse. Mentre deboli il numero dei nuovi positivi sale, attualmente il totale è di 77, a Battipaglia il numero rimane invariato 153, ma solo perché a fronte di 15 nuovi casi, altrettanti sono guariti. Nel Cilento invece a Capaccio la situazione, come ha tenuto a dire il sindaco Franco Alfieri, è sotto controllo, a 7 i casi, mentre ad Agropoli il numero totale dei positivi è salito a 27, in seguito alla positività, sempre nella giornata di ieri, registrata a carico di 6 soggetti. A Vallo della Lucania dovrebbero essere 11 positivi al Covid, si usa sempre il condizionale perché il numero non è dato da comunicazioni ufficiali, ma da dati raccolti anche grazie al contributo dei cittadini che spesso aggiornano sulla situazione in città. Si parla di tre casi nell'ospedale San Luca, della chiusura del reparto di medicina d'urgenza, di quella della scuola di infanzia e primaria Pinto, ma non esiste dispaccio ufficiale che possa dare contezza e certezza su ciò che si afferma e si scrive. Tre invece sono i casi a Ceraso, il sindaco Gennaro Maione, al pari di tutti gli altri primi cittadini, sempre alla serata di ieri, ne ha aggiornato il numero tra gli affetti, la stessa madre del sindaco. Nuovi positivi anche a Castellabate, da tre casi si è passato a cinque per intervenuto tampone positivo effettuato su due soggetti. Attualmente nessun nuovo caso si registra a Pollica, né a Castelnuovo Cilento dove resta chiusa la scuola d'infanzia per necessaria sanificazione, mentre la situazione nel golfo di Policastro è ben diversa e con numeri oggettivamente più preoccupanti, soprattutto nella città di Sapri. Aumentano i casi di coronavirus nella città di Sapri. Nel report giornalielo redatto dal sindaco Antonio Gentile, sei nuove positività sono state segnalate dal primo cittadino nel corso della serata di ieri. Ma non solo. A distanza di due settimane dall'aumento del numero delle persone affette dal virus, sono state riscontrate anche le prime due guarigioni, che aggiunte alle due precedenti, relative al dipendente comunale e alla compagna, portano a quattro il numero di persone guarite nella città di Sapri. Ad oggi dunque sono 36 in totale i contagi presenti nella cittadina, ma come dichiarato dal sindaco Gentile, fortunatamente solo per tre persone si è reso necessario il trasferimento presso una struttura ospedaliera. Nei restanti casi, infatti, si tratta di persone asintomatiche senza alcun problema di salute. A questo va aggiunto che i quattro dei sei nuovi contagi erano già in isolamento fiduciario in quanto ritenuti contatti di caso. Per quanto riguarda invece le nuove quattro positività registrate nei giorni scorsi nel comune di Casalempittari, il sindaco Giampiero Nuzzo, tramite un videomessaggio trasmesso su Facebook, ha precisato nuovamente che si tratta di un contagio di ritorno, dunque contratto in un comune diverso da quello da lui amministrato. E inoltre Nuzzo ha ribadito che i quattro casi sono relativi ad un unico nucleo familiare, composto da quattro persone e dunque completamente circoscritto. Il primo cittadino inoltre ha previsto in occasione della commemorazione dei defunti l'1 e il 2 novembre la completa apertura dei cimiteri, contrariamente a quanto dichiarato dal governatore De Luca, che invece ne raccomandava la chiusura per evitare pericolosi assembramenti. Nuzzo infine ha rivolto un messaggio di piena solidarietà e sostegno da parte dell'intera amministrazione a tutte le attività commerciali danneggiate da questa seconda ondata di contagi, che ha causato la disposizione di nuove misure restrittive da parte del governo centrale e regionale, che comportano ingenti perdite economiche per i titolari di molte attività commerciali. Esprimo non solo una vicinanza umana a tutte queste persone, ma esprimo anche la vicinanza dell'amministrazione attraverso un piccolo atto concreto, proprio per dimostrare la solidarietà nei confronti di queste attività commerciali. Ebbene, l'amministrazione comunale ha previsto per queste attività delle agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento di alcuni tributi comunali nelle modalità che poi vi verranno ufficialmente comunicate. Uno che dice la verità Pro memoria per gli smemorati e gli sciacalli Questo era il titolo del video che il presidente Vincenzo De Luca ha fatto pubblicare nella giornata di ieri. Proponendone un ulteriore assunto abbiamo seguito i suoi consigli mettere a fuoco la memoria soprattutto per arrivare alla certezza che il presidente De Luca è davvero uno che dice la verità. Siamo qui all'ospedale del mare per il completamento di questo ospedale Covid che è partito una decina di giorni fa. Abbiamo fatto un altro miracolo amministrativo senza squilli di tromba ma lavorando con grande concretezza e con grande determinazione. Questo ospedale modulare fa parte di un complesso ospedaliero di 120 posti letto di terapia intensiva. Oggi, grazie a Dio, si è alleggerita la pressione sulle terapie intensive ma avremo bisogno di queste strutture per avere ospedali dedicati al Covid e per poter riprendere l'attività ordinaria nei nostri ospedali. Abbiamo realizzato posti di terapia intensiva ma non sono occupati. Chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia. Non sono occupati ma perché i posti di terapia intensiva devono essere occupati al 100%. Ringraziamo il Padre Eterno se abbiamo i posti realizzati e non occupati da malati ma cose dell'altro mondo. Cioè siamo di fronte alla imbecillità totale. Continueremo a realizzare posti letto di terapia intensiva per stare tranquilli per l'autunno quando avremo l'epidemia influenzale e quando avremo prevedibilmente un ritorno di epidemia Covid. Tra qualche settimana facciamo una campagna di massa per convincere tutti a vaccinarsi. lasciamo perdere le fesserie e novax e scemenze che abbiamo sentito in questi anni. Per evitare l'epidemia influenzale perché i sintomi sono gli stessi del Covid e faremmo fatica a distinguere se influenza o Covid quindi avremmo gli ospedali inondati di persone. Tutti devono fare la vaccinazione in campagna. Tutti dal primo all'ultimo perché questo ci salverà. Voi sapete che nel nostro paese le forze politiche nazionali sono state così irresponsabili da decidere di far votare alle amministrative ma anche al referendum il 2020 e il 2021 settembre. Solo un paese demenziale anzi un paese prigioniero della politica politicante. La regione Campania da sola aveva proposto di votare l'ultima settimana di luglio cioè una settimana fa avremmo votato in condizioni di assoluta tranquillità. L'unica attività pubblica che è tranquilla dal punto di vista sanitario è quella del voto. in cabina si entra uno per volta. Però abbiamo aperto tutto in Italia la movida i supermercati le fiere le processioni i funerali l'ira di tutto aperto però dice che c'era l'emergenza non si poteva votare. La verità è che alcune forze diciamola anzichenecche volevano procrastinare il voto aspettando la crisi sociale a settembre-ottobre per pensare di incrementare qualche voto. Qualche altra forza politica aspettava il referendum per la riduzione dei parlamentari per cui il problema della scuola era l'ultimo dei problemi. in campania è obbligatorio fare i test perché dobbiamo dare serenità alle famiglie che mandano a scuola i ragazzi quindi questi dieci giorni in più ci servono ad arrivare a fare tutti i 140.000 test sierologici che riguardano il personale scolastico docente e non docente. è un periodo che ci serve anche per fare arrivare nelle scuole i termoscanner per misurare la temperatura non è un compito della regione ma siccome mi pare improbabile che si misuri a casa la mattina alle sette e mezzo la temperatura degli studenti abbiamo deciso di finanziare come regione tutte le scuole perché acquistino un termoscanner per misurare la temperatura dei ragazzi quindi stiamo facendo di tutto per arrivare ad aprire il 24 in condizioni di sicurezza almeno per quanto riguarda l'aspetto sanitario nel mentre non si decida come intervenire sul sistema sanitario in sofferenza in campania ma soprattutto che si ponga rimedio al dilagare dei contagi nell'area metropolitana di Napoli pare siano state prese delle decisioni che ancora una volta vanno a discapito degli altri bisognosi di cure ne parla il vice presidente del consiglio regionale Valeria Cerambino che auspica la costituzione di un tavolo di lavoro in regione che metta sedute tutte le forze pure di opposizione unite per prendere di concerto con la maggioranza le soluzioni più idonee ad una situazione sempre più drammatica in campania il sistema sanitario non ce la fa non regge si stanno chiudendo ospedali e c'è una circolare della direzione generale tutela della salute del 26 di ottobre che addirittura invita a trasformare a convertire in covid tutti quei reparti le cui attività sono state sospese proprio durante questa emergenza c'è una situazione che mi preoccupa non poco ho saputo che l'ospedale di Nola che è appunto uno degli ospedali più importanti di tutta l'ASNapoli 3 Sud che fa un milione di abitanti che ha l'unica emodinamica di tutta l'ASNapoli 3 Sud vuol dire diciamo quel reparto che è in grado di risolvere patologie cardiovascolari infarti occlusioni appunto delle coronarie ebbene questo vuol dire lasciare sguarnita un'intera ASL trovo che questa non sia una decisione saggia e che vadano considerate anche altre proposte altre soluzioni quindi io nelle prossime ore trasmetterò a tutti i sindaci dell'Agro Nolano e al direttore generale dell'ASNapoli 3 Sud una serie di proposte concrete e operative che si possono immediatamente mettere in atto per scongiurare la conversione dell'ospedale di Nola in Covid Hospital perché se è vero che oggi noi dobbiamo assolutamente essere in grado di assistere i pazienti Covid è pur vero che non possiamo abbandonare le persone che hanno altre patologie perché appunto ci si ammalava ahimè e si moriva anche prima dell'arrivo del Covid non possiamo immaginare che non esistano strutture dedicate alle cure delle patologie ordinarie sono molto preoccupata per il dato sanitario dobbiamo mettere in sicurezza la vita delle persone e come vi dicevo io sono stata solo qualche giorno fa dal ministro Manfredi e lo rinnoverò questo appello per chiedere di aprire pienamente i due policlinici di Napoli non è possibile che ci sono oltre un migliaia di posti letto e solo poche decine di posti letto messi a disposizione dell'emergenza Covid allora delle due l'una o si decide di mettere i due policlinici interamente a disposizione del Covid o si decide che nei due policlinici mandiamo a curarsi tutte quelle persone che non sono contagiate e che ha bisogno di cure importanti che non possono essere curate negli ospedali dove rischiano il contagio ma non è possibile che resistano sacche di privilegio quindi questa sarà la mia prima richiesta e anche la mia prima proposta per evitare che Nola si trasformi in un Covid Center e ancora altro ma di questo poi vi parlerò nello specifico voglio dirvi una cosa ho chiesto e lo formalizzerò come vicepresidente del consiglio e come capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Campania al presidente De Luca che si attivi un tavolo permanente con le opposizioni non è possibile che io venga a sapere di quello che la regione sta facendo o non sta facendo dai giornali o da Facebook siamo rappresentanti dei cittadini nei momenti gravi del nostro paese come per esempio nell'imminenza di una guerra si creavano i governi di unità nazionale mettendo da parte le bandiere di partito e lavorando lo ripeto tutti insieme per l'interesse della nazione ora io non mi aspetto un governo di unità regionale ma mi aspetto almeno che si accolga la disponibilità a collaborare di tutti e che tutti siano disponibili a collaborare mettendo da parte gli striscioni e le bandiere attenzione non solo alla salute ma anche alle attività imprenditoriali e ai lavoratori in difficoltà lo si chiede in un nuovo appello al vertice del governo infatti dopo il presidente di regione anche quello della provincia di Salerno Michele Estrianese ha sottoscritto insieme a molti sindaci una lettera da indirizzare al presidente del consiglio Giuseppe Conte lo ha fatto come gli stessi ha scritto a tutela delle realtà economiche produttive del territorio insieme a tanti sindaci della provincia di Salerno ha dichiarato Michele Estrianese in quanto sindaco di San Valentino Torio ma anche in quanto presidente dell'ente provincia che mi onoro di guidare dal 2018 ho sottoscritto una lettera indirizzata al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte nella quale abbiamo ribadito la necessità di rivedere le linee inserite nell'ultimo DPCM urge tendere una mano ai commercianti ai ristoratori al mondo della cultura e dello sport da mesi impegnati a rispettare tra mille sacrifici tutte le misure previste per il contenimento del contagio e ora costretti a chiudere le proprie attività economiche chiediamo un giusto equilibrio tra misure di contenimento e sostegno economico per chi ha dovuto fermare di nuovo il proprio lavoro ovviamente ha concluso il presidente estranese la salute pubblica è prioritaria su tutto ma dobbiamo anche cercare tutti insieme di difendere il nostro tessuto economico e produttivo i nostri territori sono ricchi di piccole attività commerciali artigianali di ristorazione di circoli sportivi e realtà culturali che stanno soffrendo e noi non li lasceremo soli consigliata la chiusura dei cimiteri la regione infatti è intervenuta per regolamentare le giornate dedicate alla commemorazione dei difunti nello specifico per evitare assembramenti nei cimiteri ha emanato in accordo con i rappresentanti del lanci la raccomandazione ai sindaci di evitare se possibile l'apertura degli stessi in caso contrario di regolamentarne gli accessi e gli orari nel caso di libero accesso nei giorni 31 ottobre 1 e 2 novembre la regione raccomanda ingressi ed uscite dai luoghi separate dotazione negli stessi di appositi dispenser per l'igienizzazione delle mani gli ingressi saranno presidiati da operatori della protezione civile e dalla croce rossa che provvederanno alla misurazione della temperatura corporea degli utenti a mezzo di termoscanner prevista altresì l'obbligatorietà dell'uso della mascherina e il rispetto della distanza sociale all'interno e all'esterno del cimitero non dovranno crearsi situazioni di assembramento la permanenza all'interno è consentita per il tempo strettamente necessario per compiere le visite ai propri difunti ad Agropoli ad esempio il sindaco Adamo Coppola ha disposto controlli a cura della polizia municipale l'accesso al cimitero è consentito dalle ore 8 alle ore 17 senza interruzione si raccomanda agli anziani alle categorie fragili e a quelle con malattie croniche che maggiormente possono essere esposte a gravi conseguenze in caso di contagio da covid-19 di astenersi da recarsi al cimitero a Vallo della Lucania invece ci si potrà recare al cimitero sempre nei giorni 31 ottobre 1 e 2 novembre dalle ore 7 alle ore 17 a Castellabate dalle ore 7.30 alle ore 17.30 per tutti i comuni eccezione fatta per la scelta degli orari che è soggettiva e analoga alla gestione degli ingressi differenziati così come l'accesso subordinato alla sanificazione delle mani e all'uso della mascherina come alla misurazione della temperatura previsti tempi massimi per la permanenza in loco fino a 30 minuti in ottemperanza alle disposizioni governative per il contenimento del coronavirus e per la tutela della salute della clientela e dei collaboratori anche presso le filiali della Banca del Cilento di Sassani e Vallodidiano e della Lucania si sono rese necessarie alcune prescrizioni l'istituto di credito con sede a Vallo della Lucania opera in tre regioni e quattro province con i suoi 23 sportelli dei quali 11 in Campania 11 in Basilicata e 1 in Calabria per limitare i rischi connessi alla seconda ondata del Covid-19 l'apertura al pubblico delle filiali è limitata solo alla fascia mattutina dalle ore 8.20 alle 13.20 per le sole operazioni di cassa filiali e uffici di sede sono chiuse al pubblico nell'orario pomeridiano e sono disponibili previo appuntamento per servizi di assistenza e consulenza dalle ore 14.30 alle ore 16.45 si raccomanda alla clientela di presentarsi munita dei necessari ausili di prevenzione in particolare delle mascherine l'operatività 24 ore su 24 è garantita tramite la piattaforma Relax Banking mentre l'attività bancaria è limitata ai soli servizi essenziali che non possono essere effettuati in autonomia dalla clientela tramite altri canali come il Relax Banking e l'ATM tutti i servizi di consulenza ai clienti saranno svolti nella fascia pomeridiana tramite appuntamento e a distanza via telefono o via e-mail per ulteriori informazioni bancarie si possono contattare le filiali via telefono o via e-mail si consiglia per le spese quotidiane di utilizzare possibilmente carte di credito di debito e prepagate la banca del Cilento di Sassane Vallodidiano e della Lucania informa anche sulle modalità di accredito e prelevamento delle pensioni del mese di novembre l'accredito sui conti sarà regolarmente eseguito il primo giorno lavorativo del mese mentre i prelievi in contanti saranno consentiti in base all'avviso specifico e al relativo calendario esposto nei locali di tutte le filiali per ogni eventuale informazione si può contattare la filiale di riferimento della banca del Cilento telefonicamente oppure via e-mail si va alla scoperta ancora una volta di Pestum ma della parte sotterranea dell'antica città Magno-Greca sono in corso infatti nuove esplorazioni e rilievi nella galleria tra il Tempio di Nettuno e la cosiddetta Basilica un ulteriore sopralluogo è stato effettuato appena due giorni fa dallo stesso direttore Gabriel Zucktrigel che si è soffermato su alcuni graffiti che i viaggiatori fra l'Ottocento e il Novecento hanno lasciato sulle pareti della galleria sotterranea nota sin dall'Ottocento come dimostrano numerosi graffiti una grande galleria sotterranea che occupa lo spazio tra il Tempio di Nettuno e quello noto come Basilica nel santuario meridionale di Pestum ed è ad oggi oggetto di uno studio sistematico per la prima volta si è proceduto a realizzare un rilievo dettagliato del monumento sotterraneo la galleria accessibile attraverso quattro pozzi chiusi con delle grate ha una lunghezza di quasi 50 metri ed è tuttora percorribile seppure al momento solo da tecnici muniti di appositi dispositivi di sicurezza la presenza di malta idraulica che riveste interamente le pareti della struttura lascia ipotizzare che la galleria servisse in antichità come una grande cisterna a Pestum l'approvvigionamento delle acque rappresentava una criticità spiega il direttore del parco archeologico Gabriel Zucktriger l'acqua del capofiume era malsana e i pozzi non risolvevano il problema perché l'acqua di falda tendeva ad essere salmastra visto la vicinanza della città al mare così raccogliere l'acqua piovana che scorreva dai tetti dei due templi più grandi della città in una grande cisterna poteva essere una buona idea anche se ancora ci mancano dati precisi sulla cronologia della struttura sarebbe bellissimo poter far visitare un giorno questa Pestum sotterranea a tutti ha concluso il direttore ovviamente solo dopo un restauro attento della struttura e con tutte le misure di sicurezza è un monumento che come pochi altri illustra come i templi fossero parte di una società di un'economia e di una vita quotidiana nella quale la gestione delle acque rivestiva un ruolo centrale dalla bonifica della piana da parte dei coloni greci fino all'impaludamento nell'alto medioevo la storia di Poseidonia come abbiamo raccontato in mostra ha concluso il direttore e anche la storia del rapporto tra la comunità e l'acqua di un'alto medioevo di un'alto medioevo di un'alto medioevo di un'alto medioevo